Nasce Capitano Conte, Capitano Conte ha già cominciato a dare fastidio. Una splendida iniziativa perché è una lacuna che viene colmata. Il rapporto del cittadino direttamente con la comunicazione è quello che manca in generale. Il fatto che voi siate partiti da Bari è sicuramente un punto di orgoglio per questa città. Voi dovete continuare su questa strada cercando di andare a trovare il pelo nell'uovo. Quello che normalmente al cittadino non sfugge ma che alla grande politica invece sfugge. Noi siamo cattivissimi, noi non ci lasciamo sfuggire veramente niente. Siete pronti ad affrontare questa nuova sfida? Il lavoro delle circoscrizioni è proprio quello, quello di stare nel particolare, di stare sul pezzo. Quindi dalla mattonella rotta alla luce che non funziona. E' quello che dobbiamo fare. Con il vostro aiuto lo faremo meglio. Presidente, noi spariamo e appariamo quando meno ve lo aspettate. Quindi non crediate di farla franca quando non ci vedete per un po' di tempo. No, no, no. Felice di sentire il fiato sul collo. Ne avremo bisogno. E noi torniamo tutte le volte che la gente ci chiama perché qualcosa non va. Poveri voi, immagino che in una città come Bari vi chiameranno ogni minuto. Grazie. 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 Grazie.